Il quartetto d'archi del K-pop, un prodotto perfetto a livello internazionale che sta spopolando ovunque e che ogni volta che fa uscire un brano, non importa se questo è demenziale o magari un po' più profondo, ma arriva ovunque e piace bene o male a tutti i ragazzini, soprattutto le ragazzine immagino, e di tutto il mondo, perché immagino che il livello dell'età media degli ascoltatori di questo gruppo sia comunque basso, non c'è niente di male, loro sono in quattro, fanno quello che ha fatto Justin Bieber 15 anni fa più o meno, ecco, la differenza che adesso si lavora più sui numeri su YouTube, eccetera. Comunque, Love Sick Girls, quindi io sono abbastanza curioso di vedere il testo, perché questa tipologia di brano è chiaro che io mi rendo conto che è studiata per essere una hit a tavolino e questo è innegabile, infatti è una canzone a livello di prodotto perfetta, io dico. Chiaro che a livello di qualità non è roba che mi interessa, anche se le ragazze sono brave, non c'è nulla da dire, sanno cantare, sanno muoversi, fanno poi questi video alla Sussai Squad, però, capito, sono belle ragazze, anche se magari a qualcuno non piacciono le asiatiche. Sono ben studiate, ben messe, vabbè, una multinazionale c'è dietro, una grande multinazionale, grandi investimenti, tutto quello che ti pare, i brani comunque hanno quel fare empatico, forte, energetico, insomma, ci sta. Ah, è quello che mi interessa sempre vedere, però il testo, perché mi fa schiattare da ridere, perché comunque sono testi per ragazzine che devono far piangere da bambine, quindi andiamo lì. Allora, ragazze che soffrono per amore, ragazze che soffrono per amore, due volte, quindi è chiaro, parliamo di ragazze che stanno male. Una notte infinita, un amore intrappolato in una stanza senza finestre, amore uguale, cosa possiamo dire? Cerco l'amore, anche se mi fa male ogni volta. Quindi ostinate queste ragazze, soffrono per amore, sanno che l'amore è una strada che porta dritti nel calvario della sofferenza, ma nonostante questo, loro continuano ad amare, quindi non si arrendono. Per questo ragazze che soffrono per amore, mi fanno ferite e mi buttano, ecco, io sto immaginando, infatti che allora queste bambine di 13 anni che l'ascoltano è, ah, una notte infinita. Un amore intrappolato in una stanza senza finestre. Questo mi fa ridere, mi piace, ragazze, non è una critica o un giudizio, mi sto solo mettendo in faccia la realtà. L'amore comunque è abbastanza, ti rende ridicolo, no? Quindi ci sta che faccia ridere. Mi viene in mente il tartufo di Molière che fa schiattare da ridere, invece dai personaggi, vista dall'ottica dei personaggi, è una cosa seria. Comunque, mi fanno ferite, un attimo che mi perdo, e mi butto giù. Io non so cosa mi permette di resistere, il fatto che sei viva, che sei una ragazzina e che giustamente non è che ti puoi suicidare per un amore non... insomma, vabbè, no? Però non lo sa, lei è lì e si rende conto che vive, resiste. Se me ne andassi comunque, ti odierei, nel mio stato alterato, ah, anche se no lei ama, questa è una donna che ama, una ragazza che ama, non possiamo porvi fine fino a quando non è finita. E' come se avessimo atteso questa agonia. Ah, allora, vedi, c'è l'autolesionismo. Se non è finita, non è finita. Non importa se sto male, non è finita, perché è proprio l'agonia che io sto cercando. E' questo che dicono le Blackpink. Forse è tutto solo il momento, quello che stiamo cercando senza scopo. A me non interessa, ma non mi interessa, lo farò ancora e ancora. Ho soltanto bisogno di te nella tua vita. Non prega un cazzo che soffriamo. Prega un cazzo che siamo male. Non c'è uno scopo. Siamo ricche, famose e continueremo a innamorarci di persone sbagliate perché ho bisogno soltanto di te nella tua vita. Credo che avrete bisogno anche di un terapeuta. Credo che ce l'abbiano già. Ora, andiamo un po', andiamo avanti. Quindi, noi siamo le ragazze che soffrono per amore. Non puoi porre fine a questo amore da solo. Devi avere l'ok del partner. Cioè, uno dice, è finita. No, non puoi. C'è un partner alla quale devi vedere se ha fine anche per lui. Noi siamo le ragazze che soffrono per amore, non sono niente senza questo dolore. Noi siamo nate per essere sole. Yeah, siamo nate per essere sole. Nate per essere sole, invece, non possono stare senza. Non capisco, è un po' contraddittorio questo testo. Mi piace, mi piace. Ma perché continuiamo a cercare l'amore? Che loro sono sole, quindi loro passano da una relazione all'altra, vivendo solo la sofferenza, non sono mai sole, ma sono nate per essere sole. E si domandano, domanda amletica, perché continuiamo a cercare l'amore? Nessuna lettera d'amore, nessuna X e O, nessun amore mai. I miei ex lo sanno. Nessun anello di diamante che sia scolpito dalla pietra verso sinistra. Meglio se sto sola. Non voglio essere una principessa. Sono inestimabile. Un principe che non è nemmeno nella mia lista. L'amore è una droga che io smetto di assumere. Nessun dottore potrebbe mai aiutarmi quando soffro d'amore. Quindi, presa coscienza, basta, non si ama più, non c'è più nulla, gli ex lo sanno, non ti iscrivono gli ex perché lo sanno come va a finire, che tu non puoi essere neanche curata da un dottore. Basta, ha chiuso con l'amore. Però forse è solo un momento. Quello che stiamo cercando è senza scopo, guardandoti con uno sguardo ansioso, tu sei tutto quello di cui ho bisogno, se fa male. Quindi già c'è il change. Sì, no, sì, no. Quindi questa canzone racconta il dramma adolescenziale della sofferenza. Per l'amore. L'amore sta fuggendo e cadendo. Ti sta uccidendo, tesoro. Quel brivido impavido ritorna. Una volta che il dolore svanisce, non riesco a sentire. Sono felice di avere questo dolore. Tu provi pena per me, ma tu mi fai pena perché provi pena per me. Uh, ok, ok, ok. Stop un momento. Vabbè, ci siamo divertiti. Simpatica questa canzone. Insomma, è adolescenziale. Però a fatti concreti non dice cose così assurde. Cioè, ci porta davanti a una verità. La verità è che bisogna iniziare a capire che sì, l'amore è sofferenza, ma non solo quello. L'amore è sofferenza e basta quando abbiamo dei problemi noi interni, andiamo a metterci in situazioni in cui staremo male, dobbiamo soffrire. Perché è chiaro che è una cosa che genera dipendenza e non è, non essendo un oggetto che tu puoi acquistare, non dipende solo da te. Quindi sì, assolutamente. Buttarsi nelle mani dell'amore vuol dire fare un salto nel vuoto, in un fosso. Stare male, soffrire. È vero, è probabile. Però io credo che se si trovi la persona giusta, la cosa possa cambiare. E anche la sofferenza viene limitata e la gioia vale la pena viverla. Perché un conto è soffrire di tanto in tanto, ma c'è la bellezza del vivere il rapporto. Un altro conto è ricercare l'amore in quanto ricerchi la sofferenza, in quanto ci sono dei problemi tuoi interni, in quanto stai bene solo in quel modo, stai bene solo se cercato. Quel discorso di autolesionismo che molte persone hanno, soprattutto molte ragazze devo dire, tutti quanti. Però nelle ragazze, soprattutto nel periodo adolescenziale, è facile imbattersi in persone sbagliate e illudersi di amarle. Quindi questa canzone non è poi così sciocca come sembra, racconta in modo facile, in modo vendibile, fruibile, quello che vivono tutte le ragazze adolescenti. Quindi per questo motivo funziona, sono un buon prodotto, non c'è nulla da dire.